40 equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia si contenderanno il titolo di campione italiano di pesca specialità drifting nel 36esimo campionato in programma a Pescara dal 30 di settembre al 2 di ottobre. La cerimonia di inaugurazione dell'evento ci sarà giovedì all'interno dell'Anfiteatro del Marina di Pescara che accoglierà i campionati italiani. La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacue ha disciplinato il campionato con prescrizioni volte a tutelare l'incolumità del pescato che deve rimanere in vita. Infatti è obbligatorio rilasciare il pesce vivo in mare e devono essere utilizzati ami senza ardiglioni per facilitare le operazioni di liberazione del pesce. Il tempo massimo di combattimento è di 30 minuti per consentire una liberazione sicura e deve essere utilizzato materiale non acciaioso per facilitarne lo smaltimento. Gli equipaggi ammessi al 36esimo campionato italiano sono quelli saliti sul podio dei precedenti campionati italiani e provinciali del 2019. Ciascuno è composto da 4 o 5 atleti di cui uno ha il compito di ispettore di bordo. La gara si svolgerà in una prova unica divisa in due la prima venerdì 1 ottobre la seconda sabato 2 salvo variazioni o annullamenti dipendenti dalle condizioni meteomarine. La durata massima di ogni prova è stabilita in 7 ore con partenza alle 8 e rotta di ritorno alle 15 verso la base del marina di pescara. I vincitori del campionato italiano assoluto drifting 2021 avranno diritto a partecipare al campionato mondiale di pesca drifting che si svolgerà sempre in Italia.